Lo spopolamento dei piccoli comuni non è un fenomeno inarrestabile, può essere arginato, si può invertire la tendenza. Di questo ne è convinto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha delineato una strategia nazionale per le aree interne che si propone di potenziare i servizi essenziali a partire dalla sanità e dall'istruzione. Nella nostra regione è stata scelta l'area del Matese che abbraccia 14 comuni di entrambe le province. Per mettere a punto il progetto, curato dal Gal Molise, è stato organizzato un incontro a Roccamandolfi. Sono state selezionate 19 aree pilota, quella del Matese è l'area selezionata per il Molise e saranno discussi, concepiti e realizzati due tipi di intervento sostanzialmente. Il primo con un contributo di circa 4 milioni di euro per consolidare e rafforzare i diritti di cittadinanza dei piccoli comuni, quindi servizi, scuola, sanità e trasporti in modo particolare. La gente dei nostri piccoli comuni, delle aree interne, resta in questi luoghi se sta bene e quindi si punta a migliorare i servizi. Naturalmente questo non è sufficiente, poi ci saranno altre iniziative sostenute dalla regione, dai fondi comunitari, per innescare processi di sviluppo in quest'area in particolare sul turismo e l'agroalimentare. L'incontro è servito per raccogliere idee e proposte per arrivare in tempi ragionevoli all'accordo di programma quadro destinato a dare un aiuto importante ai piccoli comuni. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi nei nostri comuni e quindi si parla di sanità, di istruzione, di mobilità e l'obiettivo è di aumentare la qualità della vita. Ovviamente questo incontro di programmazione territoriale serve a sentire il territorio, ad ascoltare le esigenze di associazioni, cittadini, imprenditori, al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio. Quindi non più una politica che cala dall'alto ma una politica partecipata e anche con l'obiettivo di coinvolgere e di rispondere alle effettive esigenze che il territorio riclama e che giustamente avverte.